Siamo qui ad Ascoli al famoso carnevale storico che si svolge tra la piazza Ringo, piazza del popolo e tutto il centro storico. Ci sono migliaia di persone in giro per il centro già alle prime ore del pomeriggio e noi abbiamo anche visto in particolare una di queste divertentissime mascherate che vi proponiamo. La vostra mascherata cosa rappresenta in particolare? Rappresenta che ci fermiamo. Devo parlare serio? Io sto andando a Roma a ritrovare mio marito, vado alla trasmissione a chi l'ha visto e soprattutto questo è il pullman che va a Roma e si ferma a Caporio dove facciamo sosta e io colgo l'occasione per far vedere mio marito chi l'ha visto e questo è mio figlio. Ma papà, io voglio papà. Questa è disperata perché a parte che una donna come me non è facile lasciarla, però lui è andato a Roma, è andato a vendere il formaggio, non era venuto più. E adesso lo sto ricercando. Sei gato tutto, sei mangiato pure lo salame. Io porto l'ascolo e sono costanti, io voglio andare a vedere la partita a Roma e si fermano a Caporio. Nessuno che mi dà a bere, questi pensano solo a mangiare, va bene? Io voglio andare a Roma. Non so più, devi arrivare a Roma a Roma, questi vecchi. Questa è per l'occasione, per l'occasione. Questa mi scappa. Mi hai fatto vedere un male di scena, non ne posso più. Ma sono sempre, capito? Questo è un signore da televisione. Oh sì? Vecchè nulla, l'opostale? No, no, non giocava all'opostale. No? Ho avuto un incidente con la macchina. Io vado a Roma a Roma, mi vado a fare a venerdì. Sono suor Roxana di Rieti, ero in cura presso il medico per una cistite e una crastite. Però un giorno, una mattina, mi alzai con la pancia un po' gonfia. Andai dal medico e mi disse, guardi, lei è incinta. Ma come è incinta? Io non me ne so accorta di niente, non so se non dite cosa. Può essere. E chi sei tu? Io so, sapute. A me mi dice che c'è corasco, è sempre il cuci contro la scuola. E mi dicevo io perché mi sono fatto l'iPhone 31 pollici. Se lo vestirebbe essere. A me mi dice che sono sapute. Questa è frate, ma è fatta chiusa. C'è su un testo sempre i soldi miei e la macchina mia. Deve avere una che c'è solda su un testo. Allora, noi gli siamo dite agli autisti, siccome va la percentuale, gli siamo dite, portaci dei fusti, dei bei ragazzi a tutti. Non vi preoccupate. L'idea è che ci facevano questa robetta. Gli sono dite questo, a un mercato fa ride. C'è portata una monica, c'è portata una vecchia che va dentro i settani. E se quando alla fine la contessa che vede tutto lo dì e spende, quando alla fine scappa. Perché dice che stessi pure vanno cercate qualche bello fusta. Vedi tutta questa gentaccia e domande male i nuovi che gli stiamo dicendo. Gli è doveva via. Non se ne parla e non se ne parla. Guarda.